Parte il punto di raccolta differenziata in località della Tonnara di Palmi. Nei giorni scorsi era arrivata la firma del sindaco Giovanni Barone del capo aria gestione del territorio Francesco Carmelo Arduca per dare il via libera all'ordinanza con la quale viene dato mandato alla Radi l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio di Palmi di istituire presso l'ex scuola elementare della Tonnara idonea struttura mobile costituita da cassoni scarrabili attenuta per il conferimento volontario da parte dei cittadini delle seguenti tipologie di rifiuti, carta e cartone, multimateriale, plastica e alluminio, vetro, frazione organica. Da ieri mattina il punto di conferimento e non isola ecologica ha preso a funzionare come annunciato dall'assessore Filippo Calabro, le modalità di gestione dei rifiuti dovranno garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela ambientale e in particolare i rifiuti dovranno essere conferiti all'interno di cassoni al termine dell'orario giornaliero di conferimento. I cassoni contenenti rifiuti conferiti dovranno essere rimossi. La ditta Radi dovrà garantire durante l'orario di apertura la presenza di proprio personale che dovrà sopraintendere alle attività di conferimento. L'ordinanza avrà una validità di 45 giorni e terminerà i suoi effetti il prossimo 16 settembre. Il centro di raccolta temporanea del rifiuto differenziato in località Tonnara sarà aperto tutti i giorni, compresi i festivi dalle 8 alle 12. Sempre nell'ambito della raccolta differenziata, per venire incontro alle esigenze dei numerosi turisti delle spiagge che vanno a Palmi, i consiglieri comunali di opposizione del centro-sinistra, Salvo Boemi, Giuseppe Ranuccio e Pasquale Frisina, hanno depositato nella mattinata di ieri a Palazzo San Nicola una richiesta di autorizzazione per poter installare assieme alle associazioni che vorranno aderire all'iniziativa alcuni mastelli finalizzati a rendere possibile agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti anche presso le spiagge cittadine.